Arriva anche nel Golfo di Policastro, come nel Vallo di Diano, l'iniziativa della Regione Campania che assicura il servizio di trasporto pubblico gratuito agli studenti che provengono da famiglie con reddito basso. Nei mesi scorsi, dopo l'annuncio della Regione, il Codacons Vallo di Diano aveva chiesto di estendere i benefici della misura fino ad ora a pannaggio solo delle città e di quelle realtà servite dal Consorzio Unico Campania anche agli studenti delle aree più periferiche che solitamente per andare a scuola si servono di ditte private. Dopo il sì del Governatore De Luca sono state diverse le aziende di trasporto locale che sono state coinvolte nel servizio come ad esempio le Autolinea Curcio che si occupano della mobilità nel Diano e per Eboli, Salerno e Fisciano e la Ettore Curcio e Figli che gestisce il trasporto nel Golfo di Policastro e per Vallo della Lucania. Tuttavia sono ancora molti i studenti e le famiglie rimasti all'oscuro sulle modalità che consentono di accedere alle egevolazioni. Sebbene il primo termine per presentare la domanda si è scaduto, ci sono infatti ancora delle opportunità per usufruire degli abbonamenti gratuiti. Ecco dunque cosa bisogna fare. Registrarsi al sito unico Campania, compilare e stampare il modulo di richiesta allegando un documento di riconoscimento, allegare il modello ISEE con scadenza gennaio 2017 e pagare 50 euro con sistema Paypal direttamente al sito unico Campania. Nella fase dell'inserimento dei dati dell'azienda, l'utente dovrà indicare l'azienda privata di cui si servirà, in questo caso la Curcio, scegliendo nell'elenco aziende non aderenti al consorzio unico. La modulistica dovrà essere poi consegnata presso le sedie aziendali, a Polla per le autolinee Curcio che si occupano del Vallo di Diano e a Scario per la Ettore Curcio e Figli che si occupa del Golfo di Policastro. Il tutto dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 o dalle 15 alle 18. La prima scadenza è già andata ma c'è possibilità entro il 9 settembre di accaparrarsi gli abbonamenti validi dal 1 ottobre 2016, mentre si può presentare domanda dal 3 al 7 ottobre per gli abbonamenti con validità dal 1 novembre. Gli abbonamenti emessi riguarderanno solo le corse e gli orari scolastici antimeridiani in andata e in ritorno. Per tutte le informazioni si può chiamare al consorzio unico Campania 0815513109 o visitare il sito autolineecurcio.it. Grazie a tutti.